Crowcapita, un grande impegno per creare un futuro fantastico. Questo video parla di come effettuare prelievi su Crowcapita. Visita il nostro sito ufficiale www.crowcapita.com. Accedi con il tuo ID utente e password. Verrai indirizzato alla baccheca di Crowcapita. Vedrai la barra di navigazione. Fai clic sul menu Withdraw e seleziona l'opzione Withdraw. Quando fai clic sull'opzione Withdraw, vedrai due portafogli separati, ROI e Working Wallets. Inserisci l'importo che desideri prelevare e quindi fai clic sul pulsante Submit. Riceverai quindi un OTP sull'email con cui sei registrato. Non appena inserisci l'OTP, verrà visualizzato un pop-up che dice Amount Withdraw Successfully e verrai indirizzato al ritiro del rapporto di riepilogo. Diamo agli investimenti una nuova direzione con la massima sicurezza.